Avete avuto un incontro alla Regione, poi il giorno dopo l'ASL dequalifica, ridimensiona l'ospedale di Procida. Questo problema dimostra un po' la contraddizione che sta vivendo la Regione Campania, per cui ci sono degli interlocutori politici eletti, come il Presidente De Luca e poi ci sono i commissari governativi Polimeni e Damario che in qualche modo hanno un ruolo importante in questa vicenda. Quindi la nostra difficoltà, la difficoltà di Procida è trovare anche l'interlocuzione più efficace perché si ragiona con i politici eletti della Regione e non si risolve. Dopodiché si va dall'altro tavolo e anche lì non si risolve. Quindi il nostro auspicio è che in un qualche modo tra Governo e Regione riescano a trovare una sintesi affinché noi abbiamo degli interlocutori affidabili lì dove poter concordare le iniziative su come organizzare la migliore sanità sull'isola di Procida. In effetti questa nuova dimensione dell'ospedale non garantisce la salute e la sanità. Il senso della nostra battaglia è proprio questa, conservare un pronto soccorso attivo 24 ore su 24 con tutte le specialità, gli specialisti che consentono di gestire l'emergenza. Quello che ci vogliono proporre da un anno a questa parte non ci garantisce ciò e questa circostanza l'ha riconosciuta anche il TAR che ha ribadito la legittimità della nostra posizione. Tra l'altro il TAR riconosce anche la disparità di trattamento che per esempio c'è tra Procida e Capri lì dove sono due comunità ben o male dello stesso numero di abitanti che vengono gestite diversamente. Questo nel diritto amministrativo comunque è una figura sintomatica si dice del difetto dell'atto amministrativo. Laddove si trattano due situazioni simili in maniera differente c'è un problema anche di ordine tecnico. Quindi noi ribadiamo la nostra richiesta di essere trattati così come sono state trattate le altre comunità particolarmente disagiate. Chi dice che la politica è debole? Sicuramente adesso in modo particolare c'è un momento di confusione anche a livello nazionale, lo vediamo. Siamo a un momento dalle elezioni, la situazione è ancora poco definita. Renzi prima della fine del 2016 aveva preso anche con De Luca degli impegni che adesso Gentiloni non sta mantenendo. La Lorenzin è su un'altra posizione ancora. Quindi c'è una debolezza della politica perché c'è chiaramente grande incertezza a livello nazionale. De Luca sta cercando di andare avanti sulla sua posizione. Comunque oggettivamente e legittimamente forte di un'elezione diretta che lui ha avuto un anno e mezzo fa. E quindi credo che partendo da queste posizioni bisogna fare un po' di chiarezza anche a livello nazionale. Probabilmente mi sento di sposare questa battaglia che De Luca sta facendo per la sanità perché in quanto governatore eletto dai campani sarà giudicato dai campani se alla fine del percorso ha fatto un passo in avanti o un indietro sulla sanità della nostra regione.